cari amici di Televive un saluto a tutti abbiamo qui con noi oggi Jesse grazie a te, Jesse grazie a te Jesse viene dalla Svizzera ed è qui a GYC con noi oggi e ci racconterà la sua esperienza, la sua esperienza soprattutto nell'ambito della musica e di come la musica era un qualcosa che appunto era parte della sua vita fin da quando era piccolo e ci racconterà le sue esperienze con essa nel corso della sua vita Jesse, so can you tell us something about it? sono cresciuto in una famiglia avventista e tutta la mia famiglia, i fratelli, i miei genitori erano tutti esperti nell'ambito musicale they actually made us all first learn the piano innanzitutto tutti abbiamo imparato il pianoforte but my passion was not really into piano, it was more into drumming ma la mia passione in realtà non era proprio esattamente nel pianoforte ma era nella batteria so actually they made me go to the piano lessons which I think was a good thing but then my personal goal I think my dad used to like drum on my mom's belly when she was pregnant with me so all this rhythm came as part of me beh io certamente andavo le lezioni di piano e in qualche modo le facevo però mi sembra che forse addirittura mio padre quando mia madre era ancora incinta magari batteva un ritmo sulla pancia di mia madre quando io era ancora all'interno e questa cosa ce l'ho quasi congenita all'interno so so even when I was very small when I was just like a few years old I would grab anything that I could find that sounded like something nice or deep and I would start banging on it and start trying to make music I made my own drumsticks and started you know because my parents wouldn't buy them for me I would just make them and start playing on my sister's hamper you know and different other things e quando ero piccolo in qualsiasi occasione che trovavo per utilizzare qualche cosa per fare un ritmo per fare un suono di batteria di varie cose lo facevo insomma in qualsiasi opportunità and so from then on I would go into snare drumming and I would be like the youngest of the whole group you know everybody was like 18 years old and I was like 10 years old in the like this the snare drumming elite in Switzerland and we would do all these you know concerts and different things like this and so I really enjoyed it and I wanted to you know and people were just kind of motivating me so I actually became bored from just playing on one drum you know one snare drum and started actually working and wanting to play the entire drum set so my parents bought me another drum set actually e quindi inizialmente ho cominciato a suonare un solo tamburo però poi in qualche modo non mi bastava volevo tutta la serie, la batteria no? e per cui i miei genitori mi hanno accontentato e mi hanno comprato un'intera batteria e da lì ho cominciato a fare qualsiasi tipo di cosa in chiesa fuori dalla chiesa qualsiasi tipo di stile musicale che sia stato il rock che sia stato il jazz che sia stato la musica cristiana e da lì andavamo a fare dei vari tour musicali che sia stato in Europa, in Germania, andavamo nei locali, nei bar, nei ristoranti, nelle discoteche e io sinceramente credevo che il Signore mi ha dato questo dono e che questo dono io l'avrei dovuto utilizzare per il Signore e quindi lo utilizzavo nella chiesa per portare il Vangelo per mezzo della musica e quindi in mia casa e in tutte le chiesa in Switzerland dove ho cresciato ho iniziato a dare seminari a tutte le chiesi su come giocare i drumi correttamente e fare la chiesa di avventista di più di tempo, questo era il mio obiettivo e quindi il mio scopo alla fine era diventato quello di fare dei seminari addirittura nelle chiese per insegnare loro come suonare propriamente la batteria affinché la chiesa avventista possa essere al corso dei tempi e io non vedevo nulla di sbagliato in tutto ciò e pensavo di fare un grandissimo lavoro di aiuto per la comunità, per la chiesa ma non ero davvero convertito a questo punto in tempo, ero ancora cercando di fare delle cose del mondo e ero anche cercando di fare delle cose nella chiesa, mi piace andare alla chiesa ma ero ancora cercando di vivere con il mondo e fare tutte queste cose mondiali in questo momento io cercavo in qualche modo di tenere da una parte una vita nel mondo e dall'altra parte nella chiesa e quindi cercavo di unire queste due cose ma non ero proprio veramente convertito in realtà ho iniziato a giocare le truppe molto, ho iniziato a giocare le truppe di almeno 4-8 ore al giorno ho iniziato a pratica, inoltre da scuola e ho iniziato a rinforzare in questo in realtà ho iniziato a rinforzare quando ero 18, ho iniziato un'evoluzione di 80.000 dollari al anno e quindi a questo punto la mia capacità era diventata maggiore e quindi mi hanno offerto addirittura una borsa di studio per andare a studiare a Brooklyn College dove appunto era la mecca dei suonatori, di coloro che erano gli artisti e io ero diventato così appassionato di questa cosa che volevo farla e mentre avevo questa opportunità il Signore è intervenuto nella mia vita in diverse circostanze e a un certo punto ho cominciato a pensare nella mia vita che alla fine il grande mandato in Matteo 28 era di quindi andate a tutte le nazioni e insegnate loro il Vangelo non era andate a tutte le nazioni e suonate la batteria a loro e quindi ho deciso che non sarei andato al Berkley College in Boston che mi avrebbe portato a non potere portare il Vangelo, anzi mi avrebbe portato in un ambiente negativo per la mia crescita caratteriale però ancora non ero convinto che la batteria fosse qualcosa di negativo nella mia vita magari era negativo il fatto di andare a studiare lì e investire la mia vita in questo e quindi sono andato in Norvegia nella scuola missionaria ho imparato a dare la mia vita al servizio del Signore, ho imparato a predicare, ho imparato a fare un sacco di altre cose il messaggio della salute, l'agricoltura e tutti cercavano di dirmi, guardate che la batteria è una cosa satanica diciamo e tutti cercavano di togliere da me questa idea e io non volevo credergli e io continuavo in perterrito nella mia teoria, anzi addirittura nella scuola in Norvegia io insegnavo agli altri studenti come suonare la batteria quindi i leader non erano molto contenti di questa situazione io non vedevo ancora però nulla di sbagliato in quello che facevo dopo la scuola missionaria in Norvegia sono andato a Bogenhof in Austria a studiare teologia per un anno e mezzo ho studiato più di un anno e mezzo però dopo un anno e mezzo che ero distaccato dalla mia batteria per due anni e mezzo adesso sono riuscito a distanziarmi in qualche modo da quell'ambiente musicale nel quale io ero assorbito, ero assorto e in realtà ho cominciato a studiare la scienza di scendice 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 è la scienza di come le musica, o gli diverse tipi di musica producono l'emozione in persone E in questo momento poi ho cominciato a studiare la scienza del che cosa la musica fa nel nostro cervello. E quindi studiando questo tema di Scentix, io ancora amo i drum, ho comprato il drum set di Pearl Master Studio, che è più di 12.000 dollari, e questo era ancora caro per me, ma ho cominciato a studiare questo tema. Io avevo a casa un set di batteria da 12.000 dollari, appunto, e mi era molto cara, ma a quel momento ho cominciato a studiare, a studiare questo argomento. Ho cominciato a vedere che un certo tipo di musica, ogni specifico tipo di musica, produce una specifica emozione nelle persone. E infatti Hollywood sono tra i più esperti di questa scienza, perché la utilizzano in ogni singolo film. Traducono tutti i film che hanno in ogni lingua, in ogni cultura ma loro traducono soltanto le parole. Non traducono nulla della musica Tengono esattamente lo stesso stile di musica e funziona per tutte le culture nella medesima maniera. Produce le medesime emozioni sia che voi siate in Africa, sia che voi siate da qualsiasi altra parte del mondo. Allora ho cominciato a pensare quale tipo di emozione, di emotività voglio produrre nei fratelli di chiesa quando vengono sabato mattina in chiesa. Ho cominciato a analizzare che secondo le diverse onde musicali tu sei capace di produrre una diversa emozione. Quindi se volete produrre una canzone felice Quindi questo sarà il tipo di musica che sentirete se avete un'emozione gioiosa. E ognuno riderebbe, no? Se volete produrre una musica invece più aggressiva Produrrete delle onde musicali che producono aggressività Come questa per esempio Le persone cominciano a diventare depresse o aggressive o scupe a seconda di questa melodia. E allora ho cominciato a pensare, in chiesa io veramente vorrei produrre una condizione, una melodia, un'emozione di reverenza. Come produrre la reverenza? Come produrre la reverenza, il rispetto, il timore dell'eterno? E noterete questo in chiesa quando vedete dei suoni molto gentili, dolci, lenti. E io ho cominciato a pensare, come posso io fare questo tipo di melodia con la batteria? E' molto difficile. E' quasi possibile. Per esempio nella musica classica, nei concerti, utilizzano la batteria. Ma non utilizzano la batteria in questo stato ipnotico di... Ma non utilizzano la batteria nello stato ipnotico di una melodia che produca un certo ritmo continuato e consecutivo. E quindi sono capaci di produrre, anche per mezzo della batteria, un suono reverente verso il Signore. Ma io non credo personalmente che la batteria, cioè lo strumento di per sé, sia satanico. Ma è molto difficile utilizzare la batteria in una maniera reverente. E c'è un'altra ragione grande che ho trovato quando studiavo questo argomento delle musica. E questa è inerente alla storia della Chiesa. Quando io ho studiato la storia della Chiesa. E io ho cominciato a studiare la storia dei movimenti carismatici. che era molto interessante perché il movimento carismatico era basato su una teologia semplice. Perché la musica carismatica è basata su quello che è chiamata il Vangelo semplice. La teologia del Vangelo semplice. Un vero consiglio di questa semplice teologia ormai che hanno iniziato a sviluppare. In questa teologia semplice del Vangelo, loro estrapolano in qualche modo da quello che Cristo è, soltanto magari la sua grazia, la sua bontà, il fatto che sia venuto a morire per noi, lo estrapolano e lo mettono lì a sé stante, dando grande enfasi a quel specifico punto. E quindi utilizzano soltanto questo piccolo semplice Vangelo, lasciando a parte, quindi a discapito, delle altre cose che la Bibbia insegna, cioè il messaggio della giustificazione, il messaggio della santificazione, il processo di crescita caratteriale. Quindi questi movimenti carismatici hanno iniziato, sono andati avanti in tre grandi filoni. Uno filone di questi era appunto quello dei movimenti pentecostali, nei quali saltavano in chiesa, si rotolavano per terra, facevano grandi scene. E poi hanno sviluppato un secondo filone che era appunto un po' più conservativo del primo, che era ancora sì parlare in lingue, però non rotolarsi proprio per terra come gli altri. And then they developed a charismatic theology, or the third wave, which was actually designed for conservative Christians, like Adventists and so forth, to infiltrate their theology, to make it, to just focus on the simple gospel and not the rest, to unite the entire evangelical world with the Catholic world. E poi questo terzo filone del quale appunto possiamo essere oggetto anche noi avventisti, che è il terzo filone che è un po' più conservativo in qualche modo, che è finalizzato ad infiltrare i movimenti come anche l'avventismo e così portare questi movimenti ad unificarsi per mezzo di un processo ecumenico, indirizzando il nostro pensiero a questo Vangelo semplice che ci unisce e quindi diventare un tutt'uno col movimento ecumenico mondiale. E in qualche modo la barca sulla quale loro fanno tutto ciò, cioè il palcoscenico sul quale tutto ciò avviene, è chiamata musica. E con questa musica carismatica, anche la teologia è riflettuta nella musica. La musica inizia a diventare molto semplice, molto facile da cantare, molto ripetitiva e così via. Quindi questa musica in qualche modo si infiltra nel movimento per mezzo di un cavallo di Troia e perché diventa una musica facilmente cantabile, orecchiabile, una cosa che prende nell'animo e comincia a tirarti, a trascinarti. E quindi la musica, la melodia e la lirica di queste canzoni diventano così, semplicemente. E quindi la musica, la melodia e la lirica di queste canzoni diventano così, semplicemente. e basilari, superficiali, per poter così unificare insieme tutti i vari movimenti e poter dire di essere tutt'uno. E tutta questa musica era così concentrata, o è così concentrata, su sensualismi, su sensualismi, su sensualismi, su sensualismi, su essere con Dio o qualcosa di così, e non si concentrano ancora la verità. E il problema di questa musica è che si focalizza sull'emotività del nostro animo, cioè il come noi ci sentiamo, come questa musica ci fa sentire, e non più su quello che è la verità biblica, e ciò che il Signore vorrebbe che noi diventassimo. E quindi una cosa che ho notato appunto è che uno dei principali metodi della musica carismatica, per attirare le persone a loro, era appunto l'utilizzo della musica. della batteria e del colpo ritmato, che appunto modificava in qualche modo anche le loro emozioni. Il problema è che il ritmo è una cosa che appella direttamente alla parte posteriore del nostro cervello, e reagisce di conseguenza con la nostra emotività. E quindi il problema è che filtra nel lobo frontale, quindi non viene fermata dal lobo frontale, non viene fermata dal raziocinio, dalla parte della nostra fronte, dove è localizzato il lobo, ma va direttamente a livello posteriore, dove l'emotività viene tirata fuori, e quindi un'emotività tale che ti fa sentire grande, fino a che sei lì ed ascolti, ma quando poi la musica finisce, tutto si spegne, e esci dalla chiesa, tutto è finito. E il mio scopo alla fine è diventato non più quello di utilizzare la musica come cosa principale, ma non volevo ingannarli, e quindi volevo che loro arrivassero alla concezione della verità dal punto di vista razionale, e non soltanto tirando fuori un sacco di emozioni, che poi non sarebbe rimasto nulla in loro. Quindi per concludere il discorso, ciò che vogliamo affermare è che se noi continuiamo a seguire questi movimenti carismatici, dal punto di vista musicale, noi perderemo piano piano la nostra identità quale avventisti. And so we lose our mission, we lose our purpose, and suddenly we suddenly have no reason why to exist as an Adventist church if we do that. Perderemo la nostra visione, la nostra missione, la nostra ragione per cui esistiamo, e quindi non ci sarebbe più ragione per la quale essere avventisti. E questo è quello che è successo a me, e quindi ora preferirei predicare piuttosto che suonare la batteria per invogliare i giovani a Cristo. Grazie Jesse, so may God bless you and keep you in your ministry, and that many people that have heard this experience may be as well listening to it and thinking about it. Grazie Jesse per la tua testimonianza e la tua esperienza, e speriamo che molte persone che hanno appunto ascoltato la tua esperienza possano fare tesoro di queste cose e fare anche loro la loro battaglia nel loro cuore e avere la vittoria anche su questo argomento. Un saluto a tutti gli amici di Televive, qui da JYC in Austria. Un saluto a tutti gli amici di Televive, qui da JYC in Austria.